Grazie, grazie. Benvenuti, bentornati. Io sono Guido Romeo, sono giornalista per il Sole 24 Ore, scrivo di innovazione e tecnologie e sono molto onorato di essere qui oggi pomeriggio. Devo dire, la mattinata è stata estremamente interessante, estremamente piacevole, abbiamo affrontato e imparato. Io personalmente ho imparato molte cose, tra l'altro con speaker come Odi Freddi, i dettagli su Niemeyer e sulle sue motivazioni personali, in certe scelte sono sempre delle chicche. Ma adesso passiamo a una parte un po' più tecnologica, legata all'innovazione, e non è solo una tecnologia di servizi, è una tecnologia che vedrete che sta cambiando profondamente il modo, ha cambiato profondamente il modo in cui viviamo e ha un impatto di cui forse non ci accorgiamo. Venendo qui io pensavo al pulire, al pulito, e mi veniva in mente uno dei miei autori preferiti, che è Stephen Berlin Johnson, che ha scritto un libro alcuni anni fa che si chiama Come siamo arrivati ad adesso. È diventata anche una bellissima serie tv per la BBC, in diverse puntate, ci sono sei puntate che sono i suoi sei capitoli, dove c'è l'invenzione del suono, del tempo, del vetro, della luce, cioè come si sono arrivate a riprodurre in maniera artificiale, quindi a controllare da parte dell'uomo certe tecnologie. In realtà il primo capitolo è dedicato proprio al pulito, cioè all'invenzione del pulito. Ed è estremamente istruttivo perché senza il pulito non avremmo moltissime delle cose. Pensate, se non avessimo alta capacità di pulizia, cosa sarebbero i microchip oggi? Non avremmo microchip, quindi non avremmo tutto quello che vediamo intorno a noi o che ci portiamo in tasca, probabilmente. Ma ci sono state anche grandi sfide. Ci sono stati ingegneri, come racconta Stephen, che hanno sollevato intere città per poter mettere le fognature sotto le città. Quindi fare pulizia è una sfida, oltre che tecnologica, anche storica. È questo che vi invito a considerare. Perché oggi avremo con noi voci molto diverse che affronteranno questo tema da diverse angolature. E vado subito a presentarveli perché incontrarli è forse la cosa migliore per capire la varietà che abbiamo di fronte. Abbiamo con noi qui Giulio Sandini, che è direttore e fondatore dell'Istituto Italiano di Ecologia. Benvenuto Giulio. Giulio, io gli chiedevo prima, ma allora tu sei il padre di iCub, il robottino? E lui dice, guarda, i padri sono tanti, però io forse sono la madre. Perché è responsabile anche della parte di visione, che è una delle parti più sfidanti dei robot. Cioè, una macchina capace di vedere e riconoscere che cosa ha davanti è uno dei limiti enormi. Ma sentirete, ci sono tantissime cose che poi succedono all'Istituto di Tecnologia, Esoskeletri e altri nuovi materiali. Con noi abbiamo anche Colin Anderson, che è CEO di USF Ultra Small Fibers. Colin? Hi. Welcome. Ultra Small Fibers, stiamo parlando di nanotecnologie. Credo che nel settore del pulito state già guardando le nanotecnologie. Io ho visto cose meravigliose, sia in Italia che all'estero, su quello che possono fare spugne con del nanotech per assorbire nuovi materiali. Quindi c'è veramente un... c'è tanto spazio là sotto, come diceva un scienziato molto famoso. Gaetano Correnti, partner di KPMG Advisory, KPMG Italia. Benvenuto Gaetano. Gaetano affronterà con noi una parola che tutti conosciamo, ma che in pochi sappiamo veramente spiegare, ovvero le blockchain. Ci sono rapporti che dicono che, nonostante l'esplosione di investimenti sul blockchain, tra una decina d'anni il 90% di quello che vediamo oggi in realtà non ci sarà. Il 90% delle iniziative fatte sul blockchain è destinata a fallire. Quindi è un settore estremamente interessante, con molto hype, con molti investimenti, molto promettente, ma anche a cui stare attenti. E Gaetano ci aiuterà a capire. Giussi Cannillo, responsabile di innovazione e logistica di Formula Servizi. Benvenuta Giussi. E last but not least, Angelo Migliarini, Presidente di Arelavoro Produzione e Servizi di Lega Coop Toscana. Benvenuta. E anzi, veramente last but not least, Anna Koenigson-Kopmans. Benvenuta Anna. Che è responsabile marketing di S&T Hygiene and Health. E quindi ci porterà anche un altro punto di vista internazionale. Io lascio subito la parola ai nostri ospiti, perché abbiamo una carrellata di presentazioni e di case history, e poi andremo in dibattito. Voi potete farci delle domande, e la nostra regia ci manda anche un numero di WhatsApp a cui potete scrivere. Non vedrete subito, non risponderemo subito alle vostre domande, ma al termine degli interventi risponderemo, spero, a tutti o quasi tutti i temi che ci sollevate. Quindi scriveteci pure mentre noi chiacchieriamo, mentre noi presentiamo, e poi parleremo con voi più tardi.